Mentre la data del voto è ancora un'incognita, partiti e liste proseguono nel loro percorso in vista della campagna elettorale. Ieri pomeriggio una nuova lista civica, Alternativi per Sassari, ha presentato il suo candidato Lino Mura, ingegnere ed ex vicepresidente della provincia nell'era Alessandra Giudici. Nove i punti nel programma, dentro tra gli altri il rilancio del centro storico, l'urbanistica con lo sviluppo di una città-territorio che si è connessa alle borgate, la realizzazione del centro intermodale e un piano sicurezza con una centrale unificata che vede il raccordo tra polizia locale, protezione civile e forze dell'ordine. Mi candido a sindaco con la lista alternativa, è una lista civica, è una lista di cittadini al di fuori dei partiti. Mi candido a sindaco perché vogliamo migliorare questa città, il rapporto politica-cittadini, il rapporto fra le variazioni della città, il rapporto fra quello che si deve fare e non si riesce a fare. Noi ci riusciremo. Alternativi per Sassari guarda soprattutto alle fasce più deboli e sulla collocazione politica. Noi non abbiamo una collocazione politica, diciamo che siamo distanti dal centro-destra e dal centro-sinistra, siamo una formazione di centro, una lista civica quindi di centro, però abbiamo come punto di forza aiutare i più deboli, aiutare i poveri. Per cui uno potrebbe dire allora siete col centro-sinistra. Sì, un centro-sinistra che mette al primo punto i poveri, siamo col centro-sinistra. Sì, un centro-sinistra. Sì, un centro-sinistra. Sì, un centro-sinistra. Sì, un centro-sinistra.